Arriva a Palmi la mostra Legami del maestro Achille Cofano proposta in questi giorni in un locale del centralissimo Corso Garibaldi. Il maestro Achille Cofano, parente per parte materna del noto scultore Nicola Gullì, regino d'ocche battezzato a Palmi nella chiesa parrocchiale della Madonna del Soccorso, è ben noto alla città e le sue opere fanno bella mossa in alcuni punti strategici della stessa. Il monumento al pescatore posto sul lungomare del quartiere Tonnara, il monumento ai caduti del corpo dei vigili urbani per la festa nazionale della pulizia municipale, posto nell'androne di Palazzo San Nicola, le lastre bronze della fontana dei canali di Piazza Losardo, il ricordo artistico in bronzo di Mario Bagalà lungo il corso Aldo Barbalo solo per citare le più importanti. Il maestro ha effettuato i primi studi a Lecce e successivamente a Roma e si è affermato con la sapiente mano del noto scultore Sergio Sebaste tra i migliori allievi di Pericle Fazzini. Propone così numerose opere anche in terracotta, forme classiche, corpi armoniosi, volumi perfetti, materiali plasmati a mano, colori naturali, fattezze che stupiscono. In questo periodo prediligo la terracotta, specifica il maestro Cofano, perché consente di evidenziare un prodotto artistico con i suoi limiti e le sue virtù. La freschezza e la genuinità della terracotta, dice, derivano dall'assenza di mediazioni. La mostra resterà aperta fino al 31 agosto ed anche l'artista Achille Cofano è presente in questi giorni a Palmi per chi volesse interloquire con lui e conoscere più a fondo le sue opere.